Azienda giovane, dinamiche, al passo con i tempi, Sia Energia si pone indubbiamente come leader nel mercato della vendita di energie elettriche e gas metano. Nata dalla decennale esperienza della Meta Edilcom, per ottemperare le disposizioni della delibera 296 del 2015 dell'autorità dell'energia elettrica e del gas, Sia Energia ha fatto dell'attenzione al cliente, della valorizzazione del territorio, dei veri e propri fiori all'occhiello della sua politica aziendale, riuscendo così, in breve tempo, a diventare punto di riferimento sicuro per quanti vogliano una gestione dei propri fabbisogni energetici che sia semplice, seria e trasparente. Il tutto grazie all'opera di personale altamente qualificato, in grado di garantire all'utente la massima disponibilità, trasparenza e supporto, fornendo un servizio personalizzato e affidabile, diminuendo i tempi di risposta e aumentando l'efficienza e la prontezza dei servizi e degli interventi. Sia Energia, altresì, valorizza il territorio in cui opera tramite una continua attenzione alle esigenze del singolo e della collettività e la promozione dello sport e dei suoi valori. Tale attenzione è ben esemplificata anche dalle continue iniziative e promozioni proposte al pubblico. L'ultima, solo in ordine cronologico, è bello e buono, diventando cliente per la fornitura di energie elettriche e di gas metano, per i clienti un mese di luce gratis, all'anno, per sempre. L'offerta è riservata ai clienti domestici, 3 kilowatt che sottoscrivono un contratto luce e gas con Sia Energia. L'azienda riconoscerà un bonus scontando la componente prezzo dell'energia del 100% relativamente ai consumi del primo mese di fornitura e successivamente il settimo mese degli anni successivi di permanenza del cliente. L'offerta è riservata ai soli clienti dual full. Nessun vincolo di permanenza e nessuna penalità in caso di recessione del contratto. A testimonianza ulteriore della trasparenza della gestione del cliente da parte della dinamica azienda erpina, scegli un futuro sicuro. Entra nel mondo Sia Energia.